Situazione surreale, surreale, quella che stiamo vivendo in questa ventesima giornata di Serie A che si dovrebbe aprire tra poco Sto registrando alle 10.59 e a mezzogiorno e mezzo ci dovrebbero essere le prime partite Ma è clamoroso quello che sta succedendo per rinvii i covid, non si rinvii a tavolino E sta succedendo veramente di tutto, di tutto, mamma mia raga Mamma mia ma che stanno facendo, inceppi tra ASL, tra Lega Serie A, Lega Calcio Veramente di tutto sta succedendo, ma fatto sta che le squadre non si possono presentare Ora andremo a parlare di quali squadre, clamoroso, ridicolo Però comunque tutta questa situazione legata al coronavirus anche per il calcio E ora andremo a parlare di queste partite che si presumono debbano essere rinviate O addirittura 3-0 a tavolino che sembra l'opzione più adatta Perché al momento l'ASL e la Lega Calcio, la Lega Serie A, ha comando praticamente, ha comando la Lega Calcio Che ha deciso di dare la vittoria a tavolino alle squadre che si presenteranno nel primo tempo Nei primi 45 minuti senza la squadra avversaria Che sarà in isolamento, in quarantena o comunque non è partita Ora andremo a parlare, iniziamo subito da Bologna e Inter Che si dovrebbe giocare a mezzogiorno e mezza Ma veramente sta succedendo di tutto Perché? Allora, il Bologna ha 8 positivi in squadra E non si presenterà, perché? Perché è stata bloccata dall'ASL E l'ASL prevede il rinvio di queste giornate di Serie A Però fatto sta che la Lega Calcio, la Lega Serie A Ha deciso che nonostante il Bologna abbia così tanti positivi Che la situazione sia critica, l'Inter scendere in campo regolarmente E quindi hanno deciso, almeno come si dice ora Di avvolgere un 3-0 a tavolino per la squadra nera azzurra Si sta ipotizzando di una possibile gara giocata con tutti i giovani sordienti della primavera Però, anche se giocassero con la primavera Che magari si vogliono far notare dall'Inter, da tutti i tifosi Ma non potrebbero minimamente giocarsela con l'Inter Già, secondo me, l'Inter passeggerebbe proprio in testa al Bologna Visto quanto sia forte la formazione di Inzaghi E quanto, diciamo, il Bologna sia inferiore Quindi giocare con la primavera è un'opzione veramente che non si può fare Basta La Lega Serie A quindi dice Non rinvii, quindi non vogliono rinviare E l'ASL, diciamo, ha bloccato Perché? Perché comunque ci sono Tutti quelli del Bologna dovranno fare la terza dose il 10 gennaio E quindi non avendo la terza dose devono essere sottoposti a 5 giorni di isolamento E quindi non potranno essere in campo contro l'Inter E quindi stati bloccati e quindi in teoria dovrebbe vincere 3-0 l'Inter Ma purtroppo la situazione è critica anche per le altre partite Non tutte, ma anche per Salenitana, Venezia, Atalanta, Torino e Fiorentina Udinese Fiorentina Udinese L'Udinese ha 7 positivi Più due membri dello staff Non partirà, bloccata dall'ASL E la Fiorentina scenderà regolarmente in campo per i primi 45 minuti E in teoria dovrebbero dare il 3-0 a tavolino alla Fiorentina Perché i rinvii comunque, io sono abbastanza, diciamo, abbastanza Cioè sono d'accordo nel non rinviare le partite Perché la situazione dello scorso anno non è da ripetere assolutamente Ma se le squadre come l'Inter, la Juventus, la Roma, la Lazio, il Milan No, il Milan no Quelle lì che stanno in Europa e che hanno competizioni europee infrasettimanali tra po' E ci sta di mezzo anche la Coppa Italia che inizierà a breve Quando lo rinvii questo turno infrasettimanale? Quando le giocheranno queste partite? Anche perché ora ci sta la Conference, Orba League e Champions League Giocheranno i turni infrasettimanali E ci saranno ulteriori turni infrasettimanali della stessa Serie A Durante le giornate Quindi quando mettono una partita che possono rinviare O a fine anno quando magari molte squadre della Serie A non saranno più in competizione europea E non ci sarà un turno infrasettimanale in Serie A Oppure non si sa Fertina quindi che partirà sarà regolarmente il capo Salernitana Venezia un caos, un caos glamoroso La Salernitana ha 23 positivi in tutto il gruppo Compresi i membri Tutti i giocatori di cui 9 positivi 23 saranno diciamo in quarantena Dei 23 9 sono positivi E quindi sono tutti in quarantena tutto il resto Perché sono considerati a contatto diretto Con questi 9 E allora scenderà in campo il Venezia Già la Serie B è spacciata per la Serie B E sta proprio ultima, ultima e ultima E poi il Venezia sarebbero tre punti clamorosi per la salvezza Ma c'è poco da fare Non si possono inviare queste partite A meno che decidano di rinviarle E trovano una data precisa E una data che può stare a tutte le italiane Perché appunto per la Conference, per l'Europa League, per la Champions E per la Coppa Italia Quindi la sblocca anche loro Non ci sarà il rinvio per la Lega Serie A Ci sarà un confronto Vedremo cosa succederà Ma la situazione è imbarazzante Speriamo si risolva il prima possibile Perché è irreale È irreale Parlato di Atalanta-Torino Ebbè stessa cosa Non si presenta il Torino Sette positivi Più due membri Se magari addirittura Si sono aumentati in queste ore L'Atalanta si presenta Avevano il 3-0 a tavolino Basta Situazione surreale Andremo a vedere un po' di domenica di calcio però Fateci vedere un po' di... Sì domenica C'è un'epifania di calcio Perché dopo due settimane Passa di stop per le vacanze Ora c'è calcio Basta Oggi si gioca E c'è pure la Roma E farò pass partita Se si giocherà Ma non credo Dell'Inter Penso della Lazio però Ciao